È una bella prova, veniamo dal ritiro, abbiamo fatto discrete cose, adesso abbiamo una partita importante perché è una partita ufficiale Coppa Italia e quindi sono curioso anch'io di vedere come i ragazzi affronteranno questa squadra, è una squadra di categoria inferiore però è una squadra abbastanza esperta e quindi sono curioso di vedere all'opera la mia squadra. È una partita importante dove ci sono in palio il passaggio, gli amicheoli contano, non c'è quella tensione, quella atmosfera che ci deve essere in una partita di campionato di Coppa Italia quindi per noi è importante oltre a fare minutaggio perché dobbiamo fare ancora tanto minutaggio in più abbiamo l'obbligo e il dovere di cercare di passare il turno. Ma sai, gli amicheoli serve per mettere minutaggio sulle gambe per vedere se hanno capito alcuni concetti quindi usciamo da questo trittico di amicheoli abbastanza soddisfatti però adesso quando ci sono, ripeto, una partita ufficiale, stadio, campo sintetico, punti in palio, prequalificazione in palio, ci sono dei fattori esterni importanti e lì voglio vedere il carattere di questa squadra. Abbiamo qualcuno acciaccato sicuramente e quindi dobbiamo valutare alcune situazioni e poi cercherò come sempre di mettere in campo la formazione migliore.